Nome. Joseph Christopher. Soprannome. Il mitragliatore di Midtown. Numero vittime. 12 accertate. Modus operendi. Arma da fuoco, mutilazioni. Joseph N. R. Christopher è nato a Buffalo, New York, il 26 luglio 1955, da un'infermiera e da un padre addetto alla manutenzione di servizi igienici. Il padre aveva come hobby la caccia ed ha insegnato al figlio Joseph come cacciare e come adoperare le armi già fin da bambino. Gli amici di Joseph racconteranno che aveva una passione per la caccia e per le armi che andava oltre ogni altra cosa. Nel 1971 si è iscritto al colle di meccanica. Gli altri studenti lo ricordano come uno studente silenzioso, molto intelligente. Si è ritirato dal colle nel 1974 e ha iniziato a fare lavori saltuari fino a trovare un impiego fisso come guardia notturna presso un college. È stato licenziato nel 1974 per essersi addormentato sul luogo di lavoro. Nel 1978 Joseph sentiva qualcosa di strano in lui. Incominciava a provare sensazioni di disagio e ad essere piuttosto aggressivo. Ha chiesto, così, aiuto ad uno psichiatra che gli ha diagnosticato una schizofrenia paranoica. Chiese dunque di essere ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Baffalo e i medici hanno accettato la richiesta di ricovero ma dopo 14 giorni hanno dimesso il paziente poiché non lo ritenevano un pericolo per gli altri e per se stesso. In realtà Joseph non stava migliorando e dopo pochi giorni sono iniziate le uccisioni. La follia è iniziata il 22 settembre 1980, quando Joseph uccise quattro uomini neri nel raggio di 36 ore con un fucile a canne calibro 22. Il 9 ottobre ha ucciso altri due uomini neri, ma questa volta non si è limitato solo a sparare. Con ira, ha aperto il petto dei due uomini e gli ha strappato il cuore. Nonostante le indagini, la polizia non riusciva a trovare l'assassino. Per un breve periodo si è arruolato nell'esercito, quindi le stragi cessarono, ma il 20 dicembre ha fatto ritorno a casa dato che c'erano le vacanze natalizie. L'assassino non ha perso tempo. Due giorni dopo ha pugnalato a morte altre quattro vittime e un'altra il 29 dicembre. Prima di far ritorno al suo lavoro di militare. Durante il servizio, Joseph ha ferito gravemente un soldato con un coltellino, senza alcun muovente. Non era stato provocato. Joseph, dopo essere stato scoperto, ha tentato il suicidio tagliandosi i polsi con un rasoio ma è sopravvissuto ed è stato spedito in un ospedale psichiatrico per fare delle sedute. Al suo psichiatra ha detto che sentiva il dovere di uccidere tutti i negri. Questa sua affermazione ha fatto scattare un campanello d'allarme nel suo dottore che, ricordandosi delle stragi avvenute pochi mesi prima, ha contattato la polizia. Iniziarono le indagini su Joseph Christopher, le quali lo portarono all'arresto nell'aprile 1981. È l'8 maggio quando inizia il processo. Si è dichiarato colpevole delle uccisioni e il giudice lo ha condannato a 60 anni di galera. È morto in carcere per una rara forma di tumore al seno maschile il 1 marzo 1993. . . . . . .